ciao benvenuto o benvenuta su questo breve video tutorial oggi parleremo di come fare un embed di un video sul tuo sito in wordpress. Incominciamo col dire che embed vuol dire incorporare. L'embedding è una funzione che hanno più o meno tutti i siti più famosi che ci permettono di caricare dei video come ad esempio YouTube, Vimeo, anche Facebook. Questo metodo ti offre due vantaggi. Il primo vantaggio è che puoi inserire nel tuo sito un riferimento diretto a video ad esempio di un altro youtuber. Ad esempio se io volessi scrivere un articolo su, poniamo il caso, una dichiarazione di un personaggio famoso, al termine dell'articolo potrei inserire direttamente il video di cui parlo all'interno del testo. Il secondo vantaggio invece se hai un sito web è di gran lunga superiore al primo. Consiste infatti nel caricare i tuoi stessi video su una di queste piattaforme gratuite ed incorporarlo sulle tue pagine web. In questo modo innanzitutto risparmierai spazio sul tuo server. La riproduzione del video quando gli utenti entreranno nella tua pagina web sarà sicuramente più veloce, più fluida perché potrà contare sui server streaming di YouTube che sono molto potenti. E infine avrai un altro canale per pubblicizzare la tua attività, cioè YouTube stesso. Il tuo video sarà visualizzabile anche nella ricerca di YouTube e se nella descrizione inserirai una presentazione ad esempio o il link al tuo sito avrai traffico verso le tue pagine anche da quest'altro social media. Allora vediamo come fare questo embedding, come incorporare un video iniziando da YouTube. Per incorporare un video da YouTube innanzitutto troviamo il video che vogliamo incorporare. Dopodiché clicchiamo sul tasto condividi. Qui clicca sul tasto incorpora. Vedi tutto questo codice che compare qui sulla destra del video, dell'anteprima del video, basta selezionare tutto questo codice e copiarlo. Ora al di sotto del codice ci sono una serie di altre impostazioni, ad esempio puoi disabilitare i controlli, il titolo, cioè tutte queste scritte che compaiono intorno, oppure puoi evitare che alla fine del video vengono mostrati altri suggerimenti, altri video suggeriti, oppure puoi far incominciare il video da un minuto ben preciso. Dopo aver creato tutte queste impostazioni, se sei interessato ad utilizzarle, copia il codice che ti viene fornito. Sono due o tre righe di codice che devi copiare tutte in ogni sua parte. Entra nel tuo sito in WordPress ed entra nell'articolo che vuoi modificare, quello in cui vuoi inserire il tuo video. Adesso ti mostro un trucco molto semplice per inserire il video in un punto ben preciso del testo, dove tu vuoi, che è anche molto utile nel caso in cui l'articolo ha molto testo, un testo molto lungo. Ad esempio, voglio inserirlo qui subito dopo la virgola. Do un paio di invii e poi scrivo una parola, ad esempio a questo punto clicco sulla tab testo e reperisco la parola che avevo scritto, la parola estranea al testo che avevo scritto prima. Puoi scrivere anche una sequenza di parole e puoi aiutarti con la funzione cerca del browser scrivendo la parola che ti interessa, che verrà evidenziata all'interno del testo. Fatto ciò, seleziono la parola che avevo inserito io e fa attenzione a selezionare solo la parola, non altre parti del codice, perché ad esempio potrebbero esserci, ricordati che questa è la parte html, la parte di codice del tuo articolo, quindi potrebbero esserci altri segni grafici come segni di maggiore, segni di minore, virgolette. Fa bene attenzione a selezionare solo la parola estranea che avevi inserito, esattamente quella. Al posto di questa parola incolla e inserisci il codice che ti aveva fornito youtube bene, così com'è, senza evitare, senza eliminare nessuna parte. Dopodiché clicca di nuovo su visuale e all'interno dell'articolo ci sarà il video che abbiamo già incorporato. Vediamo adesso come fare l'embedding, come incorporare un video sull'altro sito, vimeo.com. La procedura è molto semplice. Prendiamo il video che ci interessa e al di sotto troviamo il pulsante share. In questo pop-up che si apre c'è sempre il solito codice che inizia con iFrame che il sito ci fornisce per incorporare il video all'interno del nostro sito. Se vogliamo possiamo cliccare su show options e ci sono sempre le stesse le stesse impostazioni. Possiamo scegliere la dimensione delle scritte, possiamo scegliere se far partire questo video in automatico con autoplay this video, possiamo scegliere se alla fine del video il video deve ricominciare da capo e oppure se inserire la descrizione eccetera. Quando abbiamo terminato clicchiamo, selezioniamo sempre il solito codice che ci viene fornito da vimeo e lo copiamo. Poi ritorniamo nel nostro sito e all'interno di quest'altro articolo vado ad inserire il codice che abbiamo appena copiato sempre nella stessa maniera. clicco su testo, individuo la parola stando ben attenta a selezionare solo la parola che avevo inserito ed incollo. Torno su visuale ed ecco qui il video incorporato. Se vado a vedere l'articolo che ho appena creato, ecco qui all'interno dell'articolo che ho creato. Esiste questo video che io ho incorporato da vimeo, identico, che io posso far partire direttamente all'interno della schermata del mio sito. Tuttavia questo video in questo momento non occupa spazio sul mio sito e viene riprodotto in una maniera molto veloce, molto fluida perché si appoggia sui server di vimeo. Bene, per questo video tutorial è tutto. Adesso sai esattamente come inserire i video nelle tue pagine, nei tuoi articoli, in wordpress. Naturalmente questa procedura vale esattamente anche per gli altri tipi di cms se li utilizzi o anche per le tue pagine web semplice. L'importante è che ricordi che questo codice, questa parte di codice che hai copiato qui va sempre inserito all'interno del codice html delle pagine perché è l'unico modo per farlo leggere correttamente dal server. Ti ricordo che se hai bisogno di chiarimenti oppure se vuoi farmi qualche domanda puoi scrivermi una mail o un messaggio, un commento qui sotto. Inoltre se puoi ricevere altri video o altri articoli su wordpress, sui social media e non solo, iscriviti alla mia newsletter su www.etzalafrazia.it. Ti lascio anche tutti i link in descrizione. Grazie per la tua attenzione e al prossimo video.